Anime che si chiamano partecipata ed emozionante serata organizzata da Lions Club Valle dei Templi di Agrigento presieduto da Mariella Antinoro sabato al teatro Pirandello di Agrigento. Solidarietà e legalità al centro del messaggio della presidente che ha spiegato che il ricavato della vendita dei biglietti servirà ad acquistare vaccini per i bambini svantaggiati. Nel corso della serata è intervenuto il segretario distrettuale Gaetano Salemi che ha portato il saluto del governatore. Poi Gioacchino Cimino rappresentante distrettuale del servizio cani guida del Lions ha sottolineato come il club svolga l'importante ruolo finalizzato ad addestrare e donare cani guida ai non vedenti. Presente il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Sollecitato dalla conduttrice sul tema è intervenuto Francesco Pira docente di giornalismo dell'Università di Messina e direttore della rivista distrettuale nonché responsabile della comunicazione Lions che ha illustrato come dialogare con i giovani sul tema della legalità utilizzando i loro strumenti comunicativi e i loro codici. Toccante la successiva testimonianza di Vincenzo Agostino padre del poliziotto ucciso insieme alla moglie incinta dalla mafia dopo aver sventato l'attentato alla villa di Adora del giudice Falcone. Poi la rappresentazione teatrale dell'associazione Arcobaleno scritta e diretta da Antonella Monreale in cui 14 anime innocenti uccise perché credevano che una società più giusta potesse fondarsi sulla legalità e la giustizia hanno emozionato la platea che ha risposto con lunghi applausi. Le anime che si sono mosse con costumi e scenografia di Lea Gebbia sono state impersonate da Anna Maria Bennardo, Angelita Butera, Simona Carisi, Teresa Cinque, Lia Cipolla, Giovanna Dominici, Susi Indelicato, Giovanna Messina, Zaira Picone, Laura Pompeo, Giusy Urso, Francesca Vella, Gabriele Vitello e Gabriele Puma. Il gruppo musicale era capitanato da Antonio Zarcone. Presenti numerose rappresentanze provenienti dalle scuole e anche i genitori del piccolo Stefano Pompeo ucciso dalla mafia.